Buonasera, eccoci al nuovo episodio di Conquista il mondo The Sims Free Play. Ero in off camera prima e sono arrivato a livello 7 e ho visto che mi ha bloccato la possibilità di fare un nuovo sim, vediamo un po' se riesco a farlo insieme a voi. Il denaro cresce sugli alberi, i simoleon scasseggiano completamente la missione, il denaro cresce sugli alberi, per sbloccare l'albero dei simoleon. Allora, come si fa a creare un altro sim? Vediamo qua. Questo volume è ancora troppo alto, abbassiamolo un po'. Io comprerei un lotto qua. Puoi davvero costruire la casa? Sì. Quando ci metti? 29 minuti, mezz'ora. Ops. Per il sim nuovo come si fa? Occupazione. Ho capito. Su, 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 come si fa? Come si fa? Se, su, su. vedi che devo comprare vedi quel nuovo pulsante sociale premendolo avrai accesso diretto alla nave delle feste dove potrai mandare il tuo sim a fare visita a un amico nel mondo reale c'è poi un'altra città a visitare se non è ancora dei vicini perché non andrà a fare visita qualcuno da c'era adesso è io che mi ero illuso vediamo un po' isola delle feste non è questa forse qua si qua vediamo aggiungio vicino facciamo qua visita cosa è sta storia quanto tempo ci vuole si può dare una vita qua torna la partita ok ma io non posso costruire un sim creare un sim cerco nella libreria andiamo da lei facciamo la tornare a casa non si fa non si fa da qui come fai a tornare a casa come fai a tornare a casa tu si ok ho capito che hai tutto cucina andiamo da lei allora ragazzi tu chi sei guarda gli annunci per ottenere i premi ooooh guarda i video si ma ti sento gli stirsi ragazzi ok non mi interessa scaricare dammi i soldi i soldi i soldi sono questi ma dai posso aglielo non si può ho capito ho capito tutta bella la sua pubblicità è sembrata oggi come si fa quanto cavolo lua sta roba no basta ok quando la partita allora lucha no è qua se ti sei pagato se ti sei pagato mmm che l'acno è sta roba allora lucha fatti una doccia veloce dai anche se è casa mia poi niente dai poi una apposta qualsiasi abbastanza pulita fin e fatele così insieme eeeh ozzone lo dici tu adesso fai andare lei però ho la ma che fai lì? ti le mani poi cinque gentilezza ascoltesia divertimento dai non mai che siete in bagno mi mi non ti 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 C'è qualcosa di più. Grazie a tutti. 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 Ok. Ok. Grazie a tutti. 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 11 minuti. No. No. No, 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 no. No, 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 no. In questi. Cosa si fa? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Esiste. citate a tutti.